20 dicembre, il venerdì prima di Natale, scoprirò se per i giudici di Palermo sono colpevole di sequestro di persona perché ho bloccato gli sbarchi clandestini o se sono semplicemente una persona che ha fatto il suo lavoro e ha difeso il suo paese. Conto che venga presa in considerazione la realtà e non la fantasia, certo che se devo giudicare dalla cronaca in queste ore, se siamo in mano a giudici che fanno politica di sinistra, pro migranti, pro NG che cercano di smontare le leggi dello Stato, questa parte di giudici, non tutti, però candidatemi alle elezioni se non vi va bene niente di quello che fa il governo e se ritenete che i confini di uno Stato siano qualcosa di superato e superabile, però non mi fate paura da nessun punto di vista, quindi ci rivediamo qua nella splendida Palermo, diciamo che l'aspetto positivo, io vengo in questa splendida città per ogni udienza, venerdì 20 dicembre, venerdì 20 dicembre, venerdì 20 dicembre, per quello che mi riguarda difendere i confini non è mai un reato.